nell'oceano pacifico a circa mille chilometri dalla costa ecuadoriana esiste un insieme di isole affascinanti che sono la casa per le più strane specie di animali e piante e che hanno fatto di questo luogo un paradiso per scienziati e turisti di tutto il mondo che viaggiano in cerca di avventura conoscenze e riposo circondati da splendidi paesaggi naturali galapagos journey fleet è una flotta di catamarani disegnati per viaggiatori speciali la nostra compagnia ha un'ampia esperienza nella gestione turistica nell'arcipelago il servizio di alto livello che offriamo assicura la soddisfazione di tutti i turisti che visitano le isole incantate con noi galapagos journey fleet ha dato vita ad un concetto diverso dell'operato delle crociere esclusive riuscendo così a posizionarsi tra le imprese turistiche più importanti dell'america latina il giorni 1 e il giorni 2 sono le due imbarcazioni tipo catamarano che le offrono un confort eccezionale ed un servizio personalizzato mentre vive un'esperienza indimenticabile nelle isole galapagos giorni 1 mentre viaggio a bordo del giorni 1 potrà sperimentare grandi avventure questo catamarano può ospitare 16 persone in confortevoli cabine doppie e matrimoniali ognuna con bagno privato aria condizionata e vista diretta al mare inoltre c'è un ristorante un salone una sala da pranzo e ampie terrazze in cui potrà godere i suoi pasti e il clima tropicale insieme all'esotico paesaggio che caratterizza le isole e per l'esploratore stanco una jacuzzi con acqua calda che l'aspetta alla fine di ogni escursione nelle crociere di 4 5 e 8 giorni potrà visitare diverse isole ognuna con paesaggi e caratteristiche differenti che la sorprenderanno ancor di più quando le nostre guide naturaliste esperte le offriranno spiegazioni didattiche sull'importanza e sul significato delle isole il giorno 1 arriva nei porti situati in piccoli paesi come nell'isola san cristobal l'escursione consiste nella visita al centro di interpretazione dove potrà conoscere meglio l'interessante storia del paese e dell'isola visitare il serro tijeretas è parte dell'itinerario san cristobal da qui si ammira una meravigliosa vista del porto la baia e le isolette vicine osservare gli animali endemici delle galapagos nel loro ambiente naturale è veramente uno spettacolo a bordo del giorno 1 potrà visitare bellissime spiagge come gatney bay a espagnola che è abitata da grandi colonie di otarie e bagnate da acque calde inoltre in quest'isola si possono fare passeggiate che la porteranno sino ai luoghi dove vivono diverse specie di uccelli marini uno dei luoghi più attraenti dell'arcipelago è bartolomè per il suo impressionante paesaggio e la bellezza che lo caratterizza il giorno 1 ha un itinerario molto particolare che le permetterà di visitare luoghi caratteristici dell'arcipelago per tutta la durata del viaggio visitando spiagge deliziose dove si può apprezzare in ogni momento una vegetazione esotica ed una fauna endemica giorni 2 un'altra eccellente opzione che lei ha per visitare l'arcipelago è navigare a bordo del giorni 2 un catamarano che può ospitare 16 passeggeri in comode cabine doppie o matrimoniali con bagno privato aria condizionata e finestra con vista al mare che le permettono di godere dell'aria pura delle isole l'imbarcazione ha inoltre un salone una sala da pranzo ampie terrazze e spazi per riposare quali la jacuzzi con acqua temperata il giorno i due naviga attraverso le diverse isole nelle quali lei vivrà indimenticabili sensazioni di avventura e relax Isabella è una delle principali destinazioni del giorno i due in questa bellissima isola è possibile osservare gli animali che caratterizzano le galapagos circondati da stupendi paesaggi a santa cruz si trova la stazione charles darwin dove è possibile osservare l'ultimo esemplare di tartaruga gigante dell'isola pinta il solitario george in quest'isola che anche possibile ammirare la specie locale di tartaruga gigante in ambiente naturale che abita la parte più alta dell'isola ancora una volta galapagos journey fleet offre al visitatore la possibilità di visitare posti caratteristici dell'arcipelago durante tutto il viaggio il giorni due è una delle migliori opzioni per navigare nelle isole galapagos lei farà un viaggio indimenticabile sempre con un ottimo servizio a bordo e una comoda infrastruttura galapagos journey fleet si preoccupa che i visitatori che arrivano in ecuador abbiano sempre un appoggio che garantisca loro la soddisfazione con una grande professionalità gestiamo l'operazione turistica nelle galapagos offrendo le sempre più opzioni ognuna con le sue particolari caratteristiche venga le galapagos esperimenti grandi avventure a bordo del giorni uno o giorni due che la aspettano per offrire il miglior servizio a bordo e l'attenzione che lei si merita il miglior servizio a bordo e le sperimenti più del miglior servizio a bordo e le risposte più Grazie a tutti